E' tornata al castello di Cosenza degustando la rassegna culturale calabrese che ha unito l'arte al cibo, la didattica alle emozioni. Il cibo è anche gioco e creatività, un po' come la moda. Obiettivo è stato quello di promuovere e valorizzare la cultura regionale e sostenere la fruizione degli attrattori culturali attraverso il cibo e le arti. Un programma strutturato all'insegna del gusto e della tradizione, ma soprattutto della salute. Incontri e talk sul cibo sostenibile e sulle diete più sane del mondo con uno sguardo ai cosiddetti smart food, ovvero i cibi che proteggono la salute. Il bilancio, lo traccia, curato Rossi, anima della Maccarroni Chef Academy. La rassegna ha premiato le eccellenze della nostra amata Calabria, più di 50. Performance, gesto e teatralità, queste sono le tre chiavi di successo che hanno dato vita a questi altri giorni. Abbiamo premiato dal mondo dell'associazionismo a quello dell'impresa, dalle giovani eccellenze alle imprese storiche e soprattutto con uno sguardo ovviamente alla tradizione, ma soprattutto all'innovazione. Show cooking, wine test e non solo, per una tre giorni ricca di significato, che solo la nostra amata Calabria può dare. La Calabria del cibo e del gusto dice davvero tanto ad ogni latitudine, potendo contare su prodotti di qualità che sono una sorta di racconto delle nostre tradizioni. Lo chef Roberto Spizzirri. La mia idea di cucina calabrese parte da innanzitutto un'idea semplice, tradizionale, che sposa poi l'innovazione. L'innovazione attraverso quello che sono i nostri prodotti territoriali, della quale possiamo vantare tantissime tipologie dell'eccellenza calabresi, abbinate poi a quello che è legato a un ricordo, un ricordo di infanzia, che ci porta poi a creare quelli che sono i piatti della tradizione, andandoli poi ad innovare, perché, consentitemi di dirlo, ma non potrebbe esistere innovazione senza quella alla tradizione.